Ragazzi, siamo a fine giugno, anche se il maglioncino non lo fa presagire, fuori piove ormai da giorni e quindi a grandissima richiesta da me stesso, perché avevo voglia di chiamare con voi, benvenuti in questo nuovissimo video, in questo nuovissimo episodio di Spirity with me, Cristiano Cervigni, edizione matrimoniale, perché oggi andremo ad analizzare e a giudicare ogni particolare del matrimonio che c'è stato sabato 22 giugno, quindi la scorsa settimana, tra Diletta Leotta e Loris Carius. Lo andiamo a fare perché innanzitutto da molte riviste è stato rinominato questo matrimonio come l'evento dell'estate in Italia per quanto riguarda VIP, perché gli invitati erano molte nostre vecchie conoscenze, e poi voglio spettegolare insieme a voi su questo matrimonio prima di concentrarsi totalmente con Temptation Island, che vi ricordo che questa doveva essere la settimana di Temptation Island. Anyway, poi andate a prendere il vostro drink o snack preferito, mettete mi piace, mi raccomando, a questo video e continuate ad iscrivervi al mio canale perché domani ci sarà la prima puntata di Temptation Island, ma nel mentre che aspettiamo le mie reaction e i vostri commenti, ieri vi ho pubblicato un video un po' scandalo riguardante Temptation Island, quindi se non ne avete mai abbastanza, link qua sotto nell'info box, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, nel video di oggi, per quanto riguarda tutti i segreti di Diletta Leotta, aspettate fino in fondo perché ci sarà un mega scoop, ed è per questo che questo video è uno spin and tea e no, non giudichiamo male, anzi è un ibrido, perché parleremo anche di Chiara Ferragni ragazzi, perché è stata presente al matrimonio, ci ha voluto nascondere determinate cose, ma noi le abbiamo scoperte, quindi, sorso iniziale... Ah, e direi di iniziare subito a giudicare male questo evento, perché Diletta Leotta, come vi ho già detto, lo scorso sabato si è sposata con il calciatore Loris Karius e quindi il nostro primo giudicare riguarda lui. Menzione speciale, che buono, che gnocco, che pezzo di manzo, che vichingo venuto da chissà dove, dalla Germania. Ah, vedi Diletta Leotta, brava, brava te che te lo sei accalappiato, che bel manzone, anche io l'avrei sposato, avete fatto proprio bene. Fatto sta, dopo questo catcalling, andiamo a giudicare i vestiti da sposa che Diletta Leotta ha usato durante la cerimonia. Cerimonia che è stata fatta nell'isola di Vulcano e poi, però, tutti gli invitati si sono spostati per il party nell'isola di Lipari. Quindi, come location, io darei un bel nove e mezzo, perché adoro belle queste isole. Fatto sta, vi ho parlato di vestiti e non vestito perché il vestito da sposa che Diletta Leotta ha mostrato in realtà si poteva modificare ed è stato modificato nel corso della giornata per tre volte. Vestito, pensato e creato da Atelier e me, in collaborazione appunto con la stessa Diletta, che inizialmente è apparso così, tutto in pizzo, un vedo non vedo, abbastanza bello. Io a questo primo abito così darei un otto e mezzo, perché mi piace, mi piace il velo. Poi c'è stato anche il dettaglio con il velo, con una dedica riguardante appunto, penso, l'amore per suo marito. Ed è stata ricamata infatti la frase All I Ever Wanted. Cosa ci ricorda? La dedica nel velo. Ma il matrimonio di Kourtney Kardashian che si era fatta fare nel velo la Madonna, tipo, che era il tatuaggio che Travis ha tipo in testa. Qualcosa del genere, mi sembra di ricordare questo. Però è stata una cosa carina. Fatto sta, il vestito numero due, subito dopo la cerimonia e quindi lo scambio delle fedi, il sì e il bacio tra gli sposi, è diventato così. Quindi hanno tolto il velo e la prima donna, quella un po' più larga. E vi devo dire, questo vestito mi piace ancora di più e gli do un nove meno, perché mi piacciono molto a me i vestiti da sposa a sirena. Mi piace anche l'idea che non sia scollato, perché non so per quale motivo, ma mi sarei aspettato una mega scollatura. Fatto sta che la mega scollatura è arrivata dopo, quando per il vestito numero tre hanno tolto praticamente la parte di sopra, qua, che doveva essere tipo lo scialle o qualcosa del genere. E quindi il vestito poi rimane così. Dietro c'è un bustino che si vede e, allora, a molti è piaciuta questa scelta estetica. A me non piace molto questo bustino visto in questo modo, però comunque ho un bel lotto. Glielo diamo anche a questo terzo abito, che vi ricordo è la fine del primo, ok? Quindi è un abito unico, però che diventa tre abiti. Molto carina come idea, molto elegante, molto bella. E mi dà l'idea un po' di Dolce Gabbana style, no? Chissà perché forse Sicilia, tutto questo pizzo, tutte queste cose qua, ad un primo sguardo potrebbe sembrare una creazione Dolce Gabbana. In realtà è stato Atelier M, ma se per quanto riguarda lei i suoi vestiti sono stati molto molto carini, anche lui, vabbè, diciamo che non è stato da meno. Anche se ha usato questo abito di due colori, quindi spezzato, il sotto nero, il sopra bianco, con la camicia bianca, poi ha questa giacca un po' più avorio. Ah, lui è un vikingone! Io di solito non amo, non apprezzo molto i biondi, ma quando uno è buono, è buono che gli evo di. Anyway, adesso andiamo un po' però a vedere quali ospiti VIP erano presenti. Ce n'era un'infinità. Allora, invitati totali dovrebbero essere stati 160. Ovviamente moltissimi VIP perché amici di Diletta Leotta, ma io ne ho selezionati pochi perché dobbiamo giudicare anche i loro abiti, ma voglio andare dritto dritto al gossip e quindi mi voglio spicciar, raga. Partiamo da Michelle Unziker. Michelle Unziker insieme a sua figlia Aurora erano presenti, ovviamente, poiché amiche della sposa. È da dire che per sgamare, per scoprire tutti i particolari di questo matrimonio quasi blindato abbiamo dovuto setacciare le Instagram stories degli invitati, ok? Perché se no questo video durava due minuti. Fatto sta che, appunto, a proposito delle Instagram stories, Aurora Ramazzotti ci fa vedere un video in cui Michelle Unziker si mostra distrutta, super emozionata, una valle di lacrime e è stato carino. Insomma, a me è piaciuto questo video, ma il vestito... Io lo metto qui. Non è che mi abbia fatto molto impazzire, è secondo me il più brutto tra quelli che vi mostrerò adesso. Passiamo, infatti, adesso alla nostra vecchia conoscenza. Chiara una nostra nazionale, perché Chiara Ferragni era presente al matrimonio. Si è vestita così, con questo abitino, non è niente di che, però molto, molto carino. Mi è piaciuto molto, però di lei parleremo più tardi, raga. Quindi andrei subito da Marchisio, che borazzo. Vestito, vabbè, normale, i maschi sono sempre vestiti così, quindi però, oh, quando uno è buono, è buono, ripeto, per la seconda volta. E poi andiamo alla damigella d'onore, Elodie. Per trovare una foto del vestito di Elodie intero, figura intera, son pazzito. Perché lei non ha pubblicato quasi nulla. Le foto su di lei ce ne sono pochissime, o comunque tutte quelle che ho trovato dove si vede su per giù il vestito, ve le sto mettendo qua in sovraimpressione. Fatto sta che abbiamo scoperto che vestito è. Perché? Il vestito proverrebbe da Alice Ponce Milano, e Alice Ponce Milano ha anche un e-commerce. E quindi ho detto, andiamo a vedere se c'è lo stesso vestito. Dovrebbe essere questo, chiamato Champagne Look, e costa 1.580 euro. Ok? Sono soddisfatto di me. E poi, lei comunque è bellissima, ugualmente, perché Elodie ormai è sbocciata. Andiamo a vedere l'ultima, perché è la mia preferita, secondo me, di questo matrimonio per quanto riguarda l'outfit. Elisabetta Canalis, questo vestito un po' verdeacquino, turchesino però, con qualche nota di verde. Insomma, io forse sono dal tonico, però questo vestito mi è piaciuto tantissimo. Il migliore, secondo me, tra quelli che vi ho fatto vedere. Andiamo adesso però, basta vestiti, non parliamo più di vestiti. Andiamo a giudicare la torta. C'è stato, ovviamente, anche il momento del taglio della torta, seguito poi da uno spettacolo di fuochi d'artificio, ricondiviso anche dalla nostra Chiarona nazionale, che ultimamente, quando fa delle Instagram Stories, ci fa capire che è un po' innamoratina, ma ne parleremo, non vi preoccupate. Il fatto sta che il taglio della torta è qui, la torta è questa, ha cinque piani, dovrebbe essere, ma io, boh, sono rimasto un po' deluso. Nel senso che è così anonima, è bianca, una torta bianca, basta, grossa, fatta così, di quelle che se ne sono viste 800 miliardi di volte, boh, non c'è niente, boh, mi sarei aspettato qualcosa di più, insomma, per quanto riguarda la torta, ma dall'altra parte, il fatto che sia così anonima, potrebbe essere anche un punto in più. Non lo so, fatemi sapere voi, una torta del genere, per il matrimonio di Letta Leotta, ve la sareste aspettata? Oppure no? Io sono rimasto un po' di stucco, un po' delusino, però più la guardo e più dico, vabbè, dai, ci può stare, normale, tranquilla, intanto la torta non la mangiamo a nessuno. Ma, tornerei velocissimamente all'Instagram Stories di Chiara Ferragni, perché, oltre al make a wish dei fuochi d'artificio del matrimonio, ha pubblicato anche una storia quando c'è stata, appunto, la cantante che ha cantato la canzone d'amore. E lei l'ha ripostata, scrivendo I can't help falling in love with you, che sarebbe la canzone, io la conosco per Elvis. Allora, ragazzi, Chiara Ferragni è innamorata, su questo non c'è dubbio. Chiara Ferragni è un po', diciamo, sottona, verso qualcuno, ma, contrariamente a molti, e contrariamente a quello che vi ho detto fino a qualche giorno fa, secondo me adesso le cose sono un po' cambiate. Nel senso, queste storie d'amore, queste Instagram Stories d'amore, che ci richiamano al suo voler trovare l'amore vero, al suo sentirsi male da sola, inizialmente pensavo potevano essere dedicate a Tony F., potevano essere dedicate all'ortopedico di Pontremoli. Quindi, boh, pensavo anch'io questa cosa fino a quando, su un suo TikTok di ieri, dal momento che sto registrando, è apparso questo commento. Cerca di essere indifferente, non fargli notare che lo pensi ancora. Chiara, due punti, perché il video, appunto, tanto lo vedete, c'è lei con la didascalia, i discorsi che io e le mie amiche ci facciamo quotidianamente. Chiara Ferragni, però, a questo commento, mette like. Tant'è che le persone poi dicono, Chiara, ma non devi rendere la cosa ovvia, dovevi fa finta di nulla. Cioè, una volta che non devi cacare la gente, metti like. E questo like mi ha fatto un po' pensare. Mi ha fatto pensare che, ma voi mette che Chiara, ok, adesso odia Fedez, frecciatine, a più non posso, ma comunque sono tutte frecciatine perché lei ci sta male perché c'è ancora sotto. I don't know, raga. Ora, di tutta risposta, Fedez è in compagnia della modella francese, di Garans, e lei, e nonostante lui stia cercando di nasconderla il più possibile, lei fa di tutto per essere vista, perché pubblica Instagram Stories con il nuovo cane Silvio di Fedez, pubblica Instagram Stories facendo vedere la solita postazione del luogo che ha pubblicato qualche ora prima Fedez, l'hanno vista insieme nel backstage di Battiti Live, può darsi, insomma, in un festival italiano, e, boh, mi viene in mente, mi viene da pensare, cinico come sono, che lei, ok, sì, gli può piacere Fedez, ma che sia molto interessato a far parlare di sé e molto interessata a farsi un po' di follower e, comunque, un nome qui in Italia, tant'è che si dice che sia molto ricercata anche dagli autori del Grande Fratello perché la vorrebbero insieme a Cristiano Iovino, però, boh, queste potrebbero essere soltanto solo voci di corridoio, penso che siano super fake, lo spero per Fedez. Anyway, parlando, tornando, appunto, al matrimonio di questa stagione, quello di Diletta Leotta e dell'ospite Chiara Ferragni, in realtà abbiamo scoperto che tra gli invitati del matrimonio c'era anche Fabio Maria D'Amato. E uno può pensare, Vabbè, magari in questi anni che ha lavorato a stretto contanto con Chiara, ha conosciuto Diletta, sono rimasti amici e quindi Diletta lo ha invitato. O magari, chissà, le partecipazioni sono state inviate molto prima del Pandorogate e quindi ormai non poteva più ritirarla. Un si sa. Fatto sta che c'è un'indiscrezione riguardante Fabio D'Amato e Chiara Ferragni. Perché? A quanto sembra, a differenza di quanto ci avessero fatto pensare, i due in realtà non hanno litigato, i due in realtà sono ancora a contatto, i due in realtà si vedono solo che di nascosto. poiché fotografie di Chiara Ferragni e Fabio D'Amato al matrimonio insieme non esistono, non ci sono, ma secondo molti siti, e il primo penso ad aver riportato la notizia è il portale gay.it e poi è stato ripreso dal messaggero, dal fanpage, da chiunque, secondo loro, Chiara Ferragni e Fabio D'Amato sono arrivati insieme al matrimonio e sarebbe stata Chiara a chiedere a Fabio D'Amato di accompagnarla. In gran segreto, ovviamente. Quindi c'è un po' uno scoop qua dentro, perché, raga, soltanto una settimana fa vi ho detto la verità, vi ho fatto il video La Verità di Fabio D'Amato che aveva parlato per la prima volta, perché lui diceva di essersi licenziato, allontanato da TBS Crew, mentre TBS Crew di tutta risposta aveva detto è finito il nostro rapporto perché, lo leggo, il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale, tant'è che poi lui fece anche la frecciatina, non c'è stato il cambiamento perché sono io che me ne sono voluto andare. Lasciandoci intendere che i rapporti si erano un po' incrinati, ma in realtà, con questa indiscrezione mega, i due avrebbero finto, forse, probabilmente, un allontanamento per cercare di ripianare un po' il tutto, ma stanno continuando ad essere amici in gran segreto, tant'è che sono andati insieme al matrimonio di Letta Leotta senza farsi foto. Chissà, fatto sta, che è arrivata una segnalazione anche a investigatore social che una ragazza, penso, gli ha scritto questo. Ho visto degli articoli sul matrimonio della Leotta, ho visto che c'era anche D'Amato, ma la Ferragni fa finta di avere chiuso con lui e lui risponde sono falsissimi, hanno fatto tutto per non fare caos mediatico, ma si sentono e sono amici, ridevano e belevano insieme tutto il tempo. Ve l'ho detto che Chiara fa tutto il contrario di ciò che dice. L'ho passata in prima persona la sua falsità. E scrive, Chiara è D'Amato, ma chi vi crede? D'altronde, a detta dei giornali, avete truffato e giocato sulla pelle dei bambini in fin di vita. Cosa potevo aspettarmi? Si è salvato Fedez a dissociarsi da voi. Ora, io non so do sta la verdad, ok? Il fatto è che però sembrerebbe palese. Ora, non esistono foto, o meglio, al momento io non ho trovato nessuna foto che ritrae insieme Chiara e Fabio, ma tutti i giornali, ma tutte le segnalazioni, ma tutti in internet dicono che erano insieme, raga, ma che non si sono fatti fotografare insieme per non fare questo casino, per non creare altro scompiglio. Quindi, io dico, è vero che ognuno fa quello che gli pare, no? della sua vita e tutto quanto. Però, così, siccome siete già in un punto di non ritorno, quasi, il fatto di far finta di fare una cosa o di dire una cosa e poi in realtà si scopre che state facendo tutto il contrario, porta, secondo me, le persone a continuare a sentirsi presi in giro. e quindi poi è inutile che si va a fare i TikTok come le ragazzine di 15 anni per avere un po' di rilevanza o per riavere commenti di persone che ti elogiano se poi tanto di nascosto fai tutto il contrario. Cioè, non lo so, boh, sono un po' sconcertato su questa cosa, ma comunque questa è la mia opinione anche perché la verità assoluta noi non la sappiamo perché le prove non ci sono. Questo è il gossip che volevo farvi e che volevo dirvi ragazzi, ragazze e ragazzo ma adesso tocca a voi. Fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questa amicizia mai finita praticamente forse in gran segreto ma pubblicamente finita per finta e soprattutto fatemi sapere anche tutto quello che volete riguardante tutti questi particolari del matrimonio di Diletta Leotta siate d'accordo con me siate in disaccordo con me avete altri gossip su cui spettegolare i commenti sono sempre aperti fatto sta per oggi è tutto mi vado a preparare per Temptation Island iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella mi raccomando per avere sempre la notifica ogni qualvolta che io pubblico un nuovo video per oggi è tutto ci vediamo domani ciao oh wow ah